Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, ormai sono un vero nomale digitale, non sono a casa mia perché il mio pc mi ha abbandonato, quindi il buon Franco Ciao ragazzi, un saluto a tutti Mi ha permesso di venire a casa sua, sto streamando da qua e oggi vi registro anche un video perché si avvicina la Weekend League E quindi abbiamo pensato di fare due squadrette, visto che avete sicuramente un po' di budget tra le mani e quelle iniziali che abbiamo fatto l'altra volta sono superate Ci andiamo a vedere due squadrette Due diversi budget, tutti diciamo per chi ha un po' meno credito, uno per chi magari ha già fatto qualche sculatina Non esagerati Non esagerati Cioè due squadre alla portata di tutti, poi magari vi diciamo se avete più crediti come migliorare entrambe le squadre Detto questo, senza perdere troppo tempo, andiamo subito dentro con la prima Allora io questa qua l'ho chiamata 400k in maniera sportiva perché dovrebbe più o meno attestarsi su questo prezzo Primo giocatore, ve li sveleremo uno alla volta, uno ciascuno, che abbiamo inserito E' il buon tipo Courtois, sia per motivi di intesa e anche perché comunque quest'anno i portieri incidono ma fino a una certa E Courtois è uno di quelli che incide perché è un metro e 99, quindi è bello alto Pure sui tiri da lontano si fa sentire Il costo non è eccessivo e onestamente è sempre uno dei giocatori che a inizio gioco il suo lo fa Passando al difensore centrale Il difensore centrale troviamo Arauco che secondo me ragazzi è uno dei difensori centrali più forti low cost Perché diciamo è un Van Dijk dei poveri, io lo chiamo così Anche perché ha, se non mi sbaglio, ha lenti anche come stile di corsa Ed ha una velocità scatto maggiore dell'accelerazione Quindi recupera chiunque in lungo e difensivamente veramente forte, quindi ve lo consiglio E' un po' come Kim Ben-B Ma la velocità di 77 sembra veramente Fasul A destra invece un predestinato, un giocatore che è passato un po' secondo me under the radar Che è Pablo Maffeo perché c'è una grossa carenza di terzini da quel lato lì in liga E lui con questo if qua invece c'è una carta discreta perché veloce e veloce C'è un buon dribbling, un'ottima difesa che andiamo ad aumentare anche con i vari ombre eccetera Ma comunque già si presenta con un 77 di lettura, un 75 di intercettazione Ha anche un discreto passaggio corto, un buon controllo palla Quindi dovrebbe poter fare entrambe le fasi in maniera discreta e per il costo Ci sta Poi male che va, cioè sta a scarto più o meno Quindi non ci è andato nemmeno a perdere Se non vi piace potete metterci anche Jesus Navas Però secondo me questo è 100x Facciamoci prima il lato perché la squadra è composta da due blocconi diciamo così E passiamo direi al centrocampo Federico Allora ragazzi Federico è uscito anche il potmo Quindi se avete tantissimi non scambiabili che lo andate a pagare quasi zero Poteste anche magari fare il potmo Raga questo è un centrocampista che fa un po' di tutto diciamo Non eccelle in qualcosa però diciamo fa bene un po' di tutto Quindi un centrocampo a due secondo me è perfetto Magari in un centrocampo a tre dovete valutare voi se andarla a mettere magari o centrale o mezzale Cioè dipende diciamo come vi piace il centrocampo Però alla fine fa il suo quindi anche per i britari ci torna comodo A destra abbiamo un altro giocatore clamoroso che è Dembélé Ovviamente lo conosciamo benissimo 5-5 Un esterno molto molto forte Ma anche d'utile perché lo si può utilizzare anche eventualmente da punta Dopo vi diciamo la squadra come è pensata per me essere messa in campo Velocissimo Super dribbling Passaggi discreti Ovviamente pecca levemente di finalizzazione Però il dottorino insomma lo conosciamo negli ultimi due anni è ritornato secondo me 5-5 lo budget secondo me è il migliore Davanti invece per andare a scoprire il bloccone dell'altro campionato il primo che incontriamo R9 Proprio lui Che è Muriel ragazzi è onesto Qualità prezzo assurdo ragazzi Sbaglierà passaggi? Sì Ma raga veramente a quel prezzo secondo me è clamoroso Corre segna e fisico a dribbling a tutto Quindi secondo me in una squadra così Da meno K ci si può andare un po' a risparmiare lì perché poi alla fine ragazzi è veramente veramente forte 4-4 bello completo Torniamo indietro facciamo un flash perché invece riandiamo dalla difesa E' un giocatore che a me ha colpito nonostante mi aspettavo che ricevesse qualche upgrade in più E' Kim Inge Ovvero il difensore del Napoli arrivato quest'anno per sostituire Curipali E non solo ha un ottimo rendimento nel calcio reale ma anche su FIFA Perché ha un bel body type di quelli spessi Sposta bene gli avversari Ha anche ottime stats difensive 83 di lettura 82 di intercettazione Quindi quando c'è da mettere il piede in automatico dovrebbe farlo Non costa praticamente niente Essendo un 82 se avete roba nel club lo fate facilmente a zero Una piccola premessa perché se vedete l'intesa bassa In realtà è molto più alta però con i giocatori sperimentali Non si possono mettere i player nelle loro posizioni secondarie Poi quando li prendete li mettete in modificatore ruolo e tutti salgono Dovrebbe avere più o meno penso 28-29 questa squadra di intesa Terzino sinistro Ragazzi terzi sinistri della Serie A che serviva un po' per ibitari C'è Spinazzula L'altro era Teo però ovviamente per una 400k è troppo costoso Quindi ragazzi Spinazzula alla fine pecca giusto un po' in fisico Per il resto ragazzi 4-4 da un terzino Veloce Dribbling, difesa Secondo me è veramente uno dei più forti Dovrebbe stare circa sui 8-9k Quindi ragazzi e soprattutto è uno di quei terzini che potete fare anche salire Quindi è molto utile come giocatore Anche per il video su questo Sì è un po' più tecnico Sì è meno tronco quindi ragazzi da quel punto di vista là è molto utile Potete farci mille moduli con lui quindi è uno di quelli che vorrei sempre avere nella squadra Quindi terzio sinistro Spinazzula Centrocampista centrale per completare il reparto insieme a Valverde Ci mettiamo Zambo Anguissa Giocatore rivelazione di questo campionato Più che una rivelazione, una conferma perché l'anno scorso già aveva fatto intravedere Questo deve uscire IF Si potrebbe anche pensare di prendere perché non credo che andrà a prezzi esorbitanti Secondo me con 30-40k l'IF ve lo prendete Ma comunque c'è la carta 81 in giro che il suolo fa È abbastanza alto 1,84 per fare filtro è ottimo C'è anche dei passaggi discreti Il game sembra pure molto più grosso Esatto sembra molto più grosso di quello che è Ricorda un po' il chiesi dell'anno scorso proprio in Serie A Quindi io ce lo vedo molto bene e ci serve nel nostro centrocamp Esterno a sinistra Ragazzi qui secondo me le scelte sono due O Chiesa o Leao Diciamo un po' che ma io personalmente preferisco Chiesa Perché mi piace molto di più come carta anche più tiro E soprattutto per il modulo Per come deve andare a girare la squadra che vi diciamo dopo Secondo me Chiesa è migliore da questo punto di vista qui Ha più tiro, ha un bel dribbling, è 4-4 Quindi ragazzi diciamo andate abbastanza sul sicuro con Chiesa Per concludere invece un altro giocatore che secondo me inizialmente è stato un po' sottovalutato Abbiamo messo Gerardo De Lofeo 4-4 molto veloce Dotato di una buona finalizzazione di un buon tiro Molto agile perché 1,77 di giocatore Ha anche un buon passaggio corto Agilità 94, equilibrio 88, controllo palo 85 Bene bene il buon Gerardo Questa squadra qua come vi ho fatto vedere nel video delle tattiche Io la schiererei con un 4-3-2-1 Con Muriel Punta De Lofeo e Dembele Larghi E Chiesa adattato a fare la mezzala Che è perfetto Visto che ha un body type discreto Controlla bene il pallone Passaggi non così malvaggi Soprattutto il corto che è quello che ci interessa E soprattutto quando poi si inserisce Può anche fare male È un ottimo pure work rate mi sa Sì infatti lui ha alto normale Che ci sta tranquillare Molte hanno alto basso Mi sembra pure lo stesso dei mele Quindi ci sta Andiamo a vedere l'altra Che abbiamo preparato Ciao 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 Grazie a tutti.